Domenica 28 aprile 2019 Frosinone Napoli ore 12.30 DAZN Spal Genoa ore 15.00 Sky Chievo Parma ore 15.00 DAZN Sampdoria Lazio ore 18.00 Sky Torino Milan ore 20.30 Sky lunedì 29 aprile 2019 Atalanta Udinese ore 19.00 Sky Fiorentina Sassuolo ore 20.30 Sky 35esima giornata 0.00 Sky Sassuolo Frosinone ore 15.00 DAZN Genoa Roma ore 18.00 Sky Napoli Cagliari ore 20.30 Sky asterisco lunedì 6 maggio 2019 Milan Bologna ore 20.30 Sky asterisco 36esima giornata Sabato 11 maggio 2019 Atalanta Genoa ore 15.00 Sky Cagliari Lazio ore 18.00 Sky Fiorentina Milan ore 20.30 Dan Domenica 12 maggio 2019 Torino Sassuolo ore 12.30 DAZN Sampdoria Empoli ore 15.00 Sky Frosinone Udinese ore 15.00 DAZN Spal Napoli ore 18.00 Sky Roma Juventus ore 20.00 Sky Roma Juventus ore 20.30 Sky lunedì 13 maggio 2019 Bologna Parma ore 19.00 Sky Inter Chievo ore 20.30 Sky 37esima giornata Sabato 18.00 Udinese spalore ore 15.00 Sky Genoa Cagliari ore 18.00 Sky Sassuolo Roma ore 20.30 Dan Domenica 19 maggio 2019 Chievo Sampdoria ore 12.30 DAZN Juventus Atalanta ore 15.00 Sky Atalanta ore 15.00 Sky Empoli Torino ore 15.00 Sky Parma Fiorentina ore 15.00 DAZN Milan Frosinone ore 18.00 Sky Napoli Inter ore 20.30 Sky lunedì 20 maggio 2019 Lazio Bologna ore 20.30 Sky In caso di qualificazione del Napoli alle semifinali di UEFA Europa League e di eventuale successiva richiesta, la gara Napoli Cagliari si disputerà lunedì 6 maggio alle 20.30, mentre la gara Milan Bologna si disputerà domenica 5 maggio alle 20.30, il giorno e l'orario di disputa dell'incontro potranno subire variazioni all'esito dei risultati della società impegnata nella competizione europea per club. Grazie per la visione!